allora sapete tutti quello che sta succedendo sulla questione di bala dove dove c'è poca chiarezza ragazzi vi devo dire la verità dove credo che qualcuno non stia dicendo la verità fra società e calciatore o entourage del calciatore non sta dicendo perché poi alla fine fondamentalmente non dicono nulla e fanno uscire qualche cosa così e la verità è che l'offerta c'è per paolo di bala inutile negarla e il giocatore la sta la sta in questo momento valutando però non è chiara non è chiaro tutto come è nata questa offerta come si è sviluppata quello che è chiaro è che voi siete dei grandissimi pezzi di merda gli stessi che avete osannato murigno fino all'altro giorno sui social e che attaccate a me da sempre per dirvi le verità ed altre persone per dirvi le verità siete gli stessi che state augurando la morte a daniele de rossi state augurando le malattie a daniele de rossi state massacrando daniele de rossi per dibala allora de rossi non è la roma anche lui come non è la roma neanche totti la roma è la roma e basta però c'è un però se io devo portare rispetto a de rossi rispetto a de rossi rispetto a qualsiasi altro personaggio sportivo io a de rossi per anche se magari posso avere una critica da fargli ma rispetto glielo porto voi state ammette di bala più importante di de rossi de rossi ha dato la carriera per la roma la carriera ha dato una carriera per la roma quando de rossi era un top player nelle difficoltà quando la roma con rosella sensi stava a chiedere le stelle stava a chiedere i soldi perché era in difficoltà con i debiti e è rimasto qua dopo il 2013 è rimasto qua in tutte le peggio situazioni daniele de rossi è rimasto qua paolo di bala è un calciatore che viene a roma ricordatevelo dopo che roma era stata l'ultima soluzione per paolo di bala che aspettava prima il rinnovo del contratto con la juve e poi aspettato fino all'ultimo l'inter e nel fare il contratto paolo di bala mette una clausula di soli 12 milioni una clausula sul contratto di 12 milioni per andarsene via dalla roma con 12 milioni di euro e voi senza sapere la verità state andando contro de rossi massacrando de rossi su tutte le linee senza sapere la verità di questa storia andando a favore di di bala che sono due anni che sta qua con daniele ci abbiamo vissuto gioie e dolori ma è stato il capitano da roma vice capitano della vita ha fatto le giovanili con la roma è romano romanista de ostia vergognatevi vergognatevi siete sempre voi chi quella parte social che siete cattivi infami maledetti bastardi che vi fate nick finti con nomi finti e andate a insultare tutti i personaggi che poi magari hanno un'opinione diversa della vostra andate sul personale e oltretutto non vi basta andate sul personale pure con chi ha fatto la storia da roma daniele de rossi infami brutti infami maledetti che non siete altro e state ancora a pensare a giosè murigno quando c'è daniele de rossi in panchina ancora stata a pensare a giosè murigno a me mi fa ride di sentire la gente e no perché murigno c'ha aveva ragione murigno c'ha mai ragione murigno c'ha mai ragione perché se si ritrovano a cambiare dieci dieci giocatori e se si ritrovano con questa condizione economica è solo grazie a anche a murigno anche non solo ma anche grazie a murigno che non ti porta in champions mai che ti fa buttare i soldi sui giocatori anche grazie a lui che non valorizza un giocatore con il gioco di merda che faceva e voi state ancora a pensare a murigno qui bisogna rimettere rimette in piedi i cocci da un vaso tirato dal quarto piano sfornato e rimette in piedi i cocci perché sta squadra è massacrata dalle scelte di murigno e di diacopinto bisogna cambiare dieci giocatori che vi pensate che è facile cambiare dieci giocatori non è facile ma questo non è per a difesa della società no no perché i presidenti sono stati complici del giocatore murigno e di diacopinto e scelte hanno fatte loro e in questo momento sempre la società fa le cose che non sono fatte bene e io non posso da la colpa a daniele de rossi che è l'ultimo colpevole di questa situazione qua che non c'entra in cazzo ma perché voi pensate che de rossi vola abdulla come tersino destro o voi pensate che de rossi non voleva la squadra completata al 15 luglio ma purtroppo questa società ha iniziato in ritardo tutto quanto questa società gente che comanda ai piani ai vertici alti che non è di calcio e infatti non sa gestire niente non sa gestire neanche questa questione qui parla con qualcuno dei giornalisti parla con qualcuno ma non la sa gestire è gestita male è gestita male questa situazione e l'ultimo colpevole è proprio daniele è ma lui è lui è consapevole lui è come la gente dice no perché lui potrebbe dimettere perché si dovrebbe rimettere dimette perché si dovrebbe dimettere lui deve stare là dentro invece per cambiare cose per far calcio ma è arrivato da poco e la roma sta in fase di costruzione ci vorranno due tre anni lo sapevamo di cambiamento ma questa è la società è la società poi daniele può magari sbaglia qualcosa in campo lo diremo quando sbaglierà daniele ma sempre portandogli rispetto sempre portandogli rispetto perché la bandiera della roma è la storia della roma ma voi che avete insultato in quella maniera daniele ma la conoscete la storia della roma i valori della roma li conoscete brutti infami li conoscete o no perché io pensavo finché si insultava dagli ale tutto a posto va bene dico influencer invidia quello e quella tutto a posto ma finché ma poi state state insultando infangando la bandiera della roma puoi fare una critica può fare una critica a totti e derossi per carità de dio ma non gli augura di morì non gli augura le peggio cose le malattie le cose le peggio cose che avete curato brutti infami maledetti schifosi e voi non siete della roma voi non siete della roma non siete romanisti non siete romani voi sapete manco che cazzo vuol dire essere romano e romanista brutti infami maledetti perché ripeto uno può dire la sua la critica a daniele de rossi hai accettato e qua della ma no non gli insulti non gli insulti che gli è stato affatto ragazzo che è venuto qua di santa pazienza a risollevare una situazione drammatica 29 punti in 20 partite ha accettato uno stipendio senza manco guardare guardare lo stipendio gli hanno dato 300 mila euro per sei mesi per una situazione drammatica dove i giocatori nei test atletici non si ricevano in piedi con murigno ok ste cose qua tanto non ve le dicono ve le dicono ve le dico io non si ricevano in piedi e rimette in piedi la squadra ci fa sognare fino all'ultimo perché tutti quanti volevate la coppa la coppa la coppa ci fa sognare arrivando fino alla semifinale dove la squadra è schioppata grazie al calendario dei serie a di merda che che mette ogni anno contro la roma ma la roma se vedeva che comunque cominciava a fa calcio a giocare a calcio con tutti i problemi ha riaddrizzato una situazione adesso si riparte dovendo sostituire dieci giocatori o dieci dieci con una squadra che non fa la champions league da sei anni e che qui l'unica cosa che fanno i presidenti è mettere i soldi l'unica cosa perché adesso sono competenti ma l'unica cosa mettere i soldi perché se no una squadra come a roma con gli montengaggi secondo terzo montengaggi per cinque anni consecutivo a senza champions league non c'è reggeva ragazzi andava fallita adesso bisogna rimettere a posto i conti gli ingaggi bisogna abbassarli si sapeva però è stata gestita male la questione perché non si sa fare calcio ai vertici societari perché la questione di bala va affrontata subito o paolo stai sul mercato poi bisogna vedere ragazzi perché le ultime c'è chi dice pure che non vorrei che poi st'offerta è arrivata direttamente all'entourage la roma neanche l'ha cercata c'è chi dice che la roma si è mossa per trovare l'offerta però è tutto dubbioso ancora nessuno c'ha la verità in tasca la verità è solo che daniele daniele de rocci in questa situazione qua dove sta lavorando per fare la partita di domenica è l'unica parte lesa che si trova a preparare una partita con selic titolare con zaleschi titolare e se si fa male angelinio c'è dal se si fa male mancini c'è smalling se si fa male indica c'è cum bulla ma voi pensate che daniele vuole sti giocatori vuole sti giocatori daniele avrebbe venduto tutti tutti fosse per lui tutti e avrebbe comprato giocatori più forti perché ha ragione ragiona come me perché viene prima a roma noi professionisti e siccome oltre allenatore tifoso da roma vuole a roma forte come noi e poi adesso in questa situazione a quattro giorni dall'inizio del campionato l'unica parte lesa è lui che sta cercando di lavorare in campo con questa situazione di bala col mercato incompleto con giocatori arrivati tardi ma se sta impegnando per cercare comunque di portare a casa il risultato per domenica e viene insultato in maniera come cazzo se fa insultare un personaggio come daniele de rozzi così capisco dagli ale capisco l'odio per dagli ale perché vi dice cose in fascia da una vita e non le volete accettare e io capisco l'odio per me perché magari faccio un lavoro che vorreste fa e che vorreste che che faccio io e io magari vorrei fare il lavoro che fate voi in questo momento pensate un po che non me ne frega un cazzo dei soldi perché io non sto più bene a far comunicazione qua questa è una piazza malata questa è una piazza malata malata vi attaccate ai professionisti come se fossero parenti come se fossero cose e poi andate a insultare così la bandiera della roma ma che cazzo vi dice il cervello ma che la nostra storia una di queste è daniele de rozzi vergogna 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 vedete vergogna vedo io spero vi giuro spero che chiudono i social e così vado vado pure io a fare un'altra cosa che li chiudono ma per tutti perché poi c'è lo stadio che è un discorso e ciò c'è un altro perché la curva che era affezionata a murigno ci ha messo due minuti a passare con de rozzi perché de rozzi è la storia da roma ci ha messo due minuti la curva è tutto lo stadio no voi pitocchi da social che è stata ancora rimucinata con murigni è andata a insultare la storia della roma la storia della roma infami vermi viscidi comunque la situazione io ragazzi vi dico che io ci lavoro tantissimo però è poco chiara è poco pure per me ieri sera in questa live ho preso gli insulti io galopera perché non c'è mar male da roma non fanno informazione noi facciamo informazione e no perché voi volete il male da roma non fanno informazione ci credevate che c'è la situazione di bala quando è scelta fuori e no perché daiale voler male da roma no daiale fa informazione e ieri in questo canale diciamo che c'era un incontro in un hotel dove è stato confermato e dove c'era ramadani e pensate che ramadani tutti se pensavano ramadani è il confermato è il mediatore come cazzo si dice di della trattativa di bala oltre che avere chiesa oltre che avere bogà oltre che avere tutto quanto ma fa questo ramadani e ieri nell'hotel non si esclude che c'era anche il procuratore di bala e qua abbiamo fatto informazione invece di dire le cazzate abbiamo fatto informazione e te prendi insulti qua butti in merda solo ma pure per dire cose come stanno eppure per far informazione ai tifosi sincera e leale e corretta perché non è che se vogliono dire solo le cose belle se dicono le cose belle ma se se sanno le cose brutte quando uno fa comunicazione si dicono pure cose brutte se non si fa comunicazione e poi se non le volete sentire non l'ascoltate andate solo allo stadio a tifare ma non l'ascoltate la comunicazione se non le volete sentire ma io ho il dovere di dire tutto quello che succede nei professionisti che 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 circolano a trigoria fra chi chi comanda la roma perché comunque la roma siamo noi non sono loro adesso l'unica cosa l'unica logica calcistica che ha st'epilogo di bala se dovesse andare via perché ricordiamo una cosa non è sicuro che di bala andrà via l'unica logica calcistica è esce di bala per far posto a chiesa perché perché comunque tu prendi prima su le prendi prima su le che quel ruolo la ma prendi un giocatore più giovane che sta bene fisicamente che ti fa più metri di campo e poi dall'altra parte prendi un giocatore che non ha il rosa un giocatore da strappo che ti attacca la profondità è l'unica logica calcistica se mi prendi bogà sei una società di merda se mi prendi bogà sei una società di merda ma non chiesa o chiesa o un giocatore al pari di chiesa allora io lo posso accettare a metà costo che va via di bala che ragazzi in questo momento trovatemi un ruolo per di bala si lo facciamo trequartista ok con l'illecce con l'empoli va bene andiamo a giocare con il mila con due centrocampisti e di bala e chi è di bala e sciarawi perché poi ragazzi se se non dai via di bala io non credo che chi a roma può prendere chiesa e sulle dobbic e tutti i suoi giocatori qua faccia gioca faccia gioca lo metti farso nove e non gioca dobbic 35 milioni d'euro gavano ogni reta da liga spagnola perciò ragazzi come logica calcistica ci sta non ci stanno i tempi sono sbagliati i tempi sono sbagliati i modi sbagliata la comunicazione una comunicazione che non c'è una spocchia da parte della dirigenza ai piani alti della roma una spocchia bisogna parlare chiaro e tifosi non ve ne nascondete qui oltre che come prima che parlava sempre murigno parla parla solo dei rossi pure un'altra volta parla solo dei rossi un'altra volta e questa è la vergogna però vediamo quello che succede ad oggi c'è possibilità pure che ancora rimane di bala e vediamo cosa che farà la società a fine mercato certo che se si presenta con bocà è un conto che con l'occhiesa no chiesa l'occhiesa di turno è un alto se può capire come logica calcistica ma la cosa è importante e rispetto il rispetto voi non ci avete rispetto fate schifo le persone le ammazzate edersi con quelle ditine del cazzo ad insultare con quelle ditine con quei profili falsi le ammazzate come ammazzate aiale ammazzate psicologicamente magari anche un allenatore come daniele de rossi siete contenti e vi sentite realizzati vi sentite bravi monologo terminata